Cari amici, buongiorno. In questo breve video volevo parlarvi, visto che qualcuno me lo ha chiesto, della figura di Francesco Carbone. Devo però fare una premessa. Questo non è un video per specialisti, è un video divulgativo, per così dire. Per cui chi già da anni segue Francesco Carbone, chi si è informato, chi sa cosa ha fatto, qual è la sua battaglia, in questo video non troverà notizie interessanti. Io lo vorrei presentare e vorrei parlarne a chi invece ancora non lo conosce, al pubblico magari un po' più disattento, a coloro che non hanno la voglia di vedere i suoi lunghi video perché spesso Francesco Carbone fa dei video di lunga durata, dei video lunghi. Allora, Francesco Carbone è una figura oltre modo interessante, un personaggio oltre modo interessante che da ormai 14 anni, prima da solo e poi da tre anni a questa parte con l'associazione governo del popolo, porta avanti una battaglia contro le infiltrazioni massoniche e mafiose molto pesanti che purtroppo esistono in magistratura. Questo ormai lo possiamo dire perché è dimostrato. Dovete sapere che Francesco Carbone che è supportato da sua moglie che è anche avvocato, ha presentato nel corso degli anni ben 21 denunce che purtroppo sono sempre cadute nel vuoto e sono sempre state fascicolate come modello 45, quindi indagini diciamo conoscitive che poi non portavano a nulla perché sapete che c'è una grossa differenza fra modello 45 e modello 21. Questa cosa la spiegava bene anche Alessandro Maiorano e l'avvocato Cataormina e in questo caso sono più informato. Ma al di là di questo Francesco Carbone sostiene e dice, sicuramente sarà così, di essere in possesso di una della cosiddetta famosa valigetta blu, valigia blu contenente documenti importantissimi e da questa valigia non si separa mai. La sua associazione, l'associazione governo del popolo, che cosa chiede, che cosa esige? Appunto, governo del popolo, lo dice il nome, vuole che le autorità procedano per legge, nel rispetto della legge, arrestino chi ha fatto reati, politici che hanno fatto reati, chiede il blocco preventivo dei loro beni per vederne la natura e per vedere se loro riescono a dimostrare la provenienza lecita dei beni del loro patrimonio e poi chiede infine che questi politici vengano corrotti, vengano spesso, vengano appunto spesso corrotti, vengano giustamente processati. Lui ha avuto moltissime tentativi di boicottaggio, lo sappiamo, credo, almeno questo penso che lo sappiate e il braccio armato è la Digos, per cui Francesco Carbone, e io riporto le sue idee, ritiene che la Digos sia formata da mercenari, da mercenari del sistema criminale e spesso e volentieri, purtroppo in più circostanze è stata usata contro di lui. Questo era un po' per inquadrare il personaggio, questo era il primo video divulgativo, io adesso sto cercando anche di informarmi meglio, di conoscere meglio la sua battaglia, soprattutto l'inizio, la fase iniziale della sua battaglia e poi farò volentieri altri video, però intanto vi invito a seguirlo, a seguire la sua battaglia perché ritengo che sia una persona di un grande coraggio e con una grande determinazione e sappiamo tutti, lui lo dice e su questo concordo al mille per mille che quando il popolo è informato, quando il popolo è consapevole è pressoché imbattibile. Questo volevo dirvi, quindi seguiranno altri video, cercherò di seguire e relazionarvi sempre in estrema sintesi sulle sue battaglie, sullo stato dell'arte, vi invito per il momento a iscrivervi al mio canale, a mettere il like e spero che qualcuno di voi che non conosceva ancora appunto Francesco Carbone e le sue coraggiose battaglie inizino a seguirlo, quindi spero che questo video sia stato di una qualche utilità. Grazie per l'attenzione e alla prossima!